Ha preso nuovamente carta e penna in mano il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dopo la lettera inviata nei mesi scorsi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella adesso il primo cittadino di Arezzo ha deciso di scrivere un'altra emissiva indirezzata questa volta al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Due le questioni di massima importanza al centro della lettera. La prima riguarda i risparmiatori rimasti coinvolti dalle conseguenze del decreto salvabanche del 22 novembre scorso la seconda è invece il futuro della nuova Banca Etruria. Ho scritto una lettera che ormai è di dieci giorni fa che ho sottoposto anche ai rappresentanti istituzionali del territorio aretino cioè ai parlamentari aretini per averne una conferma e una disponibilità alla sottoscrizione. Chiesto in sostanza a Matteo Renzi quattro cose quella di aumentare la percentuale di svalutazione dei crediti sofferenti per trovare risorsa da destinare agli obbligazionisti subordinati ma non solo le altre richieste sostanzialmente riguardano la procedura di vendita della banca che possa consentire di mantenere i livelli occupazionali attuali migliorando le caratteristiche professionali quindi dando una risorsa significativa all'aggiornamento professionale del personale di Banca Etruria e mantenendo il radicamento sul territorio di questa banca che è secondo me l'elemento essenziale per il rilancio della nostra economia. La lettera è stata sottoposta all'attenzione anche degli altri sindaci della provincia di Arezzo al momento è stata sottoscritta dagli amministratori comunali di Laterina, Bibbiena, Monterchi, Castiglion Fiorentino e Subbiano. Molti non hanno risposto, alcuni hanno risposto che non erano disponibili perché è in corso un'altra iniziativa lanciata dal sindaco di Civitella cioè un incontro col viceministro delle finanze a Roma per il 16 febbraio. Io torno a ripetere, la lettera è ancora nei miei mani per venerdì prossimo ho convocato nuovamente i parlamentari del territorio e se da qui a venerdì qualche sindaco ci ripensa e spero veramente che ci ripensi di sottoscrivere questa perché se la sottoscriviamo tutti assume tutta un'altra forza nei confronti del Presidente del Consiglio.